ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlarvi delle mie tre anatrelle del mio pulcino quella grande dietro è supernova che conoscete molto molto bene mentre le altre sono quella più piccola e gialla ping pong quella nera è ananas il pulcino si chiama focanana io con questo vi saluto ciao ragazzi